Sono Anna Roscazzo, sono insegnante dell'Istituto Tecnico e Tecnologico dei Copiari di Trascati e insegno elettronica. Quando ho ricevuto la mail dell'Hackathon Fondazione Mundo Digitale ho subito pensato di scrivere la mia classe, la terza. Sono molto molto contenta del risultato che hanno raggiunto perché una squadra si è pensata al terzo posto e un'altra squadra e sono molto orgogliosa di poterli accompagnare il cantone per ricevere il premio. Il mio motto è sempre questo, imparare divertentosi, quindi devo divertire prima di tutto io e loro devono imparare a prendere divertentosi. Sono sicura che questa giornata per loro sia stata molto molto importante.